Ciao, eccomi qui, sono le prime ore del pomeriggio, mi sembra siano le 3 e un quarto e sto aspettando i nostri eroi che sono arrivati proprio adesso. Come è andata la giornata di oggi finora? Allora, stamattina abbiamo fatto un lavoro molto molto bello perché loro potessero rilasciare delle ombre importanti che facevano parte della loro vita e poi abbiamo trovato il loro tesoro più grande. È stato un lavoro molto bello, emozionante, in un luogo veramente speciale. Bene, allora adesso sono arrivati, quindi andiamo subito a lavorare. Ci vediamo presto, buonissimo pomeriggio e continuate a seguirci. Ciao!